Buonasera ai telespettatori di Rossini TV per questo terzo appuntamento con Estra Prometeo. Questa sera siamo in studio con l'architetto Nicole Baroncea, è responsabile dell'area tecnica, me lo sto leggendo apposta, degli sportelli di Estra, Pesaro e Vallefoglia e lo sto leggendo proprio perché a questo punto, nel dare la buonasera, mi viene la curiosità in cosa consiste esattamente il tuo lavoro. Buonasera, niente, io ho iniziato la collaborazione con Estra Prometeo proprio l'anno scorso con l'apertura dello sportello di Pesaro per il quale ho curato tra l'altro l'allestimento. Poi da cosa nasce cosa? Le due cose sono combaciate in quel momento, la mia pregressa esperienza nell'efficientamento energetico e nella progettazione di impianti da fonti rinnovabili con altri leader del settore e l'incontro con Estra Prometeo che appunto è una multi-utility, quindi oltre ai prodotti di luce e gas che sono quelli più noti per il cliente finale, proponeva già nella regione Toscana alcuni prodotti che riguardano l'efficientamento energetico. Possiamo parlare di caldaie, di capotti termici per i condomini, un servizio che era abbinato poi alla cessione del credito, quindi quella possibilità di cedere il diritto alla detrazione fiscale a una società che poi si prende in carico questo credito d'imposta. Quindi dicevo appunto che da cosa nasce cosa, abbiamo pensato di proporre questo servizio anche per la zona di Pesaro e poi Vallefoglia con l'apertura dello sportello di Vallefoglia. Questo è un settore in forte espansione e anche in continuo movimento perché da una parte ci sono gli incentivi fiscali che sono trainanti, da altre parti anche la tecnologia è migliorata negli ultimi anni. Il patrimonio italiano è molto datato come si sa, quindi la maggior parte degli edifici ha un livello di prestazione energetica molto bassa, quindi necessita appunto di una riqualificazione energetica che è una spesa non indifferente per il cliente finale, quindi avere la possibilità di avere una cessione del credito per esempio è uno strumento molto utile. A questo proposito oggi si sente spessissimo parlare di questo super bonus del 110%, quali sono i meccanismi che regolano questo provvedimento previsto dal decreto rilancio? Ecco, con il decreto rilancio in realtà sono stati rafforzati alcuni meccanismi che esistevano già, quindi quelli della detrazione fiscale che riguardano la riqualificazione energetica, il sisma bonus e quello per gli impianti fotovoltaici. Questa detrazione è stata ampliata appunto a 110% ed è stata presentata sotto questo ombrello della parola gratis, perché esiste un altro meccanismo che è la parte più interessante di questo decreto rilancio che è quella possibilità di cedere il credito o di avere lo sconto in fattura. Questa possibilità in realtà era prevista anche prima, solo che si poteva cedere il credito solo a un fornitore, ma il fornitore a sua volta per esempio non lo poteva cedere alla banca. Con questo decreto rilancio è previsto anche una terza cessione, quindi dal cliente all'impresa e poi dall'impresa alla banca. Ed ecco perché il 110% in modo che la banca alla fine arrivi a coprire il 100% di questa spesa in sostanza. Questa è l'idea di questo meccanismo di cessione del credito presentato sotto la parola gratis. È evidente che la disponibilità della banca in questo caso è una cosa fondamentale, quindi il governo sta lavorando in questo momento proprio per sensibilizzare le banche e fare in modo che le banche concedano questa possibilità di cedere il credito all'impresa o direttamente al cliente finale. Nel caso in cui la cessione non sia possibile, in ogni caso quello che era il tempo di 10 anni per recuperare la detrazione fiscale è stato portato a 5 anni, quindi nella peggiore situazione in 5 anni in ogni caso tutta la spesa, il 110% della spesa si recupera. Quindi questa sicuramente sarà una bella occasione sia per l'edilizia, sia per i clienti finali, sia per, non per l'ultimo, per riuscire ad arrivare a quei standard per la parte ambientale che vengono richiesti, energetica ambientale che vengono richiesti sia dall'Europa sia dall'Italia. Ed esattamente come funziona questa cessione dei crediti d'imposta per l'eco bonus e per il sisma bonus? Ecco, al momento è stata definita sommariamente la possibilità di cedere il credito, ci sarà una piattaforma dove si registreranno sia i clienti sia le imprese, dove potranno poi attraversi diversi step da fare riuscire a cedere questo credito. Al momento si aspettano ancora dei chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate che sicuramente usciranno a breve. In ogni caso, la cosa che consiglierei, il cliente ha in mente questa idea di trovare l'impresa che gli fa i lavori gratis. I lavori in realtà sono tra virgolette gratis, lui gli cede un credito. Prima di partire in tutta questa avventura, la cosa migliore è contattare un tecnico qualificato che li farà sia da garante sia da assistente, lo assisterà nel processo di riqualificazione energetica. È previsto proprio un ruolo chiave del professionista in questo tipo di meccanismo della cessione del credito perché il professionista non solo dovrà redigere l'appe iniziale e l'attestato di prestazione energetica, che ormai credo che lo sanno tutti cosa sia perché si utilizza anche in caso di affitto o compravendita di un immobile, ma dovrà identificare quali sono quei interventi chiave che consentiranno poi accedere al beneficio, perché non tutti gli interventi consentono di per sé di accedere al beneficio. Ci sono degli interventi trainanti che sono quelli di capoto termico o copertura, quindi quello che è l'involucro edilizio. Poi c'è la possibilità di sostituzione dell'impianto di riscaldamento con impianti da fonti rinnovabili o con caldaia a condensazione, sia per abitazioni private sia per condomini, e per l'ultimo il fotovoltaico. Diciamo che questi sono i tre pilastri, i tre interventi trainanti di questo decreto. Un altro requisito fondamentale è quello di migliorare di almeno due classi energetiche quello che è la prestazione della propria abitazione. Quindi senza questo, anche se uno spende soldi e pensa di recuperarli perché l'impresa gli promette di farle gratis, in realtà non potrà accedere al beneficio finale, quindi alla fine in qualche modo dovrà pagare questo intervento perché ovviamente nessuno non fa lavori gratis. Quindi il professionista ha un ruolo chiave di garante in tutto questo meccanismo sia del cliente, sia dell'impresa, sia anche dello stato stesso. Infatti al professionista saranno anche richieste delle assicurazioni di copertura professionale in caso di problematiche di qualsiasi natura che possano derivare. E questo super bonus del 110% è compatibile con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie? Sì, assolutamente sì. Sono due interventi complementari. Innanzitutto la parte che riguarda la super bonus ha dei limiti di spesa anche di tipologie di intervento. Quindi si tratta per un capotto termico di una spesa che va da 30 a 50 mila euro in base alla tipologia edilizia, per le caldae condominiali una spesa di 30 mila euro e anche per le caldae, diciamo, per abitazioni private in pianti fotovoltaici fino a 20 mila euro. Oltre a questo tipo di incentivo c'è la possibilità, che c'era già in precedenza, quella di usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione edilizia, che riguarda, diciamo, tutte quelle opere interne che non riguardano direttamente l'ecobonus o sismabonus, quindi può essere un tramezzo, una pavimentazione, qualsiasi tipo di intervento. Quindi si riuscirà a avere con queste due misure la possibilità di ristrutturare a un prezzo, secondo me, molto più basso rispetto a quello che si poteva fare in precedenza, riqualificare termicamente la propria abitazione, ma non solo, avere un conforto abitativo diverso, quindi senza muffe, senza ponti termici, senza spifferi, e dare anche un volto nuovo alla propria abitazione, quindi quello che riguarda la parte estetica. Come vedete è una materia molto complessa e la domanda conclusiva è ovvia, quasi scontata. Per tutto questo ci si può rivolgere ai vostri punti di Vallefoglia di Pesaro? Assolutamente sì, possiamo accompagnare il cliente in tutte le fasi di questa avventura, quindi troverà tutte le indicazioni necessarie per procedere in questo senso. Consigliamo appunto di rivolgersi sempre a un tecnico qualificato e non cercare un'impresa giusto perché qualcuno gli propone un lavoro gratis. Questo sarà sicuramente, il decreto rilancio con il super bonus 110%, sarà sicuramente una grande opportunità sia per l'edilizia, sia per l'ambiente, anche una misura sociale perché appunto molte famiglie meno facoltose potranno fare dei lavori che sono assolutamente necessari nella propria abitazione. E ci si può rivolgere a Estra Prometeo anche se non si è già clienti per quanto riguarda le forniture di energia? Assolutamente sì, quindi è un servizio dedicato a tutti i clienti, quindi qualsiasi persona che ha questa necessità può rivolgersi a noi. Si parte ovviamente anche da uno studio delle bollette perché la bolletta, dicevo, riflette in maniera diretta lo stato dell'edificio energetico dell'edificio. C'è una correlazione proprio diretta tra le due cose. E con questa correlazione tra un fornitore di energia che si incarica anche della vostra abitazione e di cercare di renderla meno energivora possibile noi chiudiamo questa terza puntata, questo terzo appuntamento con Estra Prometeo. Ne avremo un quarto ma sicuramente ci saranno tanti motivi per continuare ad approfondire questo argomento che è uno degli argomenti di maggior interesse e come vedete neanche semplicissimo da affrontare per quanto riguarda sicuramente tutti i telespettatori di Rossini TV. Grazie a tutti e buona serata. Buona serata. Chiamaci al numero 0721 149 00 05. Vieni a trovarci nei nostri store in Viale Marsala 20 a Pesaro e in Viale Roma 24 a Vallefoglia. Vieni a trovarci nei nostri store in Viale Marsala 20 a Pesaro